Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera! Oggi continuiamo il nostro viaggio nelle poesie di Giovanni Pascoli e leggiamo insieme temporale. Prima però, mi piace, iscrizione al canale e attivate la campanella per vedere tutte le mie videolezioni. La poesia temporale fa parte della sezione in campagna di Mirice e della dodicesima poesia. Se non avete ancora visto la mia videolezione su Giovanni Pascoli dove parlo della raccolta Mirice, ve la lascio qui sopra. Temporale è una piccola ballata di settenari e in queste videolezioni parleremo in particolare di tre ballate, temporale, il lampo e il tuono. Insomma, Pascoli, modalità, passione, meteo. Difatti si tratta di una sorta di trittico, di una triade, come vedete dedicata ai fenomeni atmosferici. Temporale, che fa parte della sezione in campagna e il lampo e il tuono, che faranno parte della sezione tristezze e che vedremo nelle prossime videolezioni. Leggiamo ora la poesia per poi analizzarla e vedere insieme tutte le figure retoriche. Un bubolio lontano, rosseggia l'orizzonte, come affocato a mare, nero di pece a monte, stracci di nubi chiare. Tra il nero un casolare, un'ala di gabbiano. Come vedete, questa poesia ad una prima lettura sembra una poesia molto semplice, discorsiva, quasi limpida nelle sue sensazioni visive e in particolare legate proprio al senso della vista e anche alle impressioni dei colori. Tuttavia, questa poesia nasconde anche molti altri significati simbolici che vedremo insieme. Dal punto di vista della parafrasi, troviamo un bubolio lontano, quindi il rombo indistinto di un tuono lontano, in questo verso isolato che apre la poesia. L'orizzonte splende, rosseggia, per il rosso dei lampi, come se fosse di fuoco. Sui monti il cielo è nero, come la pece, e in mezzo vediamo delle nubi che sembrano stracci. Quindi sono talmente frastagliate e tirate che sembrano dei canovacci, degli stracci. Tra le nuvole nere c'è un casolare, un'ala di gabbiano, nesso analogico che approfondiremo dopo. Come vedete, il poeta descrive in modo impressionistico gli elementi naturali che vanno a preannunciare l'arrivo del temporale. Vedete quindi che è come se Pascoli dipingesse un plein air, come facevano gli impressionisti, la natura che lo circonda. Però questa rappresentazione è molto simbolica e nasconde anche dei ricordi legati al passato del poeta. Vediamo proprio una tavolozza di colori. Il rosso color fuoco, quindi rosseggiano, l'unico verbo che troviamo all'interno di questa lirica. Nero pece è un altro dei colori che troviamo nella poesia insieme al bianco. Un bianco che mi dà l'idea di un bianco sporco per quanto riguarda gli stracci di nubi. Questo forse è un nesso analogico che faccio io e il casolare bianco invece che risplende in mezzo al temporale. Come vedete questa è una tavolozza di colori che ci ospre il poeta. Infatti questa poesia è una poesia che inizia con un'impressione uditiva, il bubolio, che è peraltro anche una onomatopea ma non solo. E poi abbiamo tutta una serie di impressioni invece visive che ci affascinano e che ci abbracciano, ci circondano in questo tripudio di colori, però di colori forti, di colori che hanno anche un'accezione negativa, quasi infernale dal punto di vista anche simbolico. Vediamo quindi il bubolio lontano, questo verso isolato con una sospensione che ci fa entrare nella poesia. Secondo Maurizio Perugi, quando noi parliamo di bubolio, non parliamo soltanto di quel verbo che è anche un'onomatopea di fatto, che rappresenta il rombo del temporale, ma parliamo anche del suono di un particolare uccello, ovvero del lupupa, che è molto presente nelle campagne della Romagna, quindi campagne che frequenta il nostro Pascoli. Molto probabilmente il suono del lupupa viene anche associato a questo evento. Certo che in questo caso l'interpretazione principale è quella del bubolio come rombo indistinto, però sappiamo anche che la bubbola era proprio questo uccello e veniva chiamato così in dialetto romagnolo. Sappiamo anche che Pascoli è un appassionato di tutto ciò che riguarda la natura, si parla del fitomorfismo pascoliano, quindi di tutto ciò che riguarda lo studio delle piante, dei nomi, ma anche dello studio, per esempio, degli uccelli, dell'ornitologia, di tutto ciò che compete all'aspetto relativo all'ambiente naturale che tanto emerge in Mirice. Vediamo poi rosseggia. Rosseggia è l'unico verbo e ha una funzione predicativa, però è mero colore, dice il critico Sanguinetti, nel senso che quando noi leggiamo rosseggia ci immaginiamo pervasi da questo rosso. Seguono poi sei proposizioni che sono appunto coordinate per assindeto, cioè non hanno appunto congiunzione. Nero di pece e stracci di nubi sono due i pallagi, ma non solo. Sono anche dei sintagmi tipici in Pascoli che ci danno un'idea di infinitezza. Infatti il nero e gli stracci sono posti in un piano di rilevanza, un piano superiore rispetto ai sostantivi che sarebbero pece e nubi. E quindi anche qui troviamo il linguaggio analogico del poeta. Tra le nuvole nere c'è un casolare, un'ala di gabbiano. Qui abbiamo il nesso analogico più importante di tutta la lirica. Leggiamolo dal punto di vista, diciamo, della parafrasi, no? Tra le nuvole nere del temporale c'è un casolare a cui è accostata un'ala di gabbiano. Ma quindi che significa tutto ciò? Significa che ci sono molti significati da analizzare insieme, no? Il significato figurato del casolare che rimanda chiaramente al nido. Sapete che per Pascoli il nido è stato l'obiettivo di tutta una vita. Ha sempre cercato di ricostituire il nido familiare con le sorelle Ida e Mariu. C'è riuscito con Ida e Mariu inizialmente, poi la sorella si è sposata e per Pascoli è stata una tragedia. Però ha vissuto tutta la vita con Mariu. Appunto il casolare rappresenta il nido ed è bianco, quindi puro come l'ala del gabbiano. Quindi troviamo anche il colore bianco che rappresenta nella nostra cultura la purezza. L'ala però protegge e difende dal male. Allo stesso tempo però le ali sono quegli arti che ci permettono di spiccare il volo come animali. E allo stesso tempo vediamo anche che è proprio il gabbiano uno di quegli animali capaci di volare in mezzo alle intemperie, alle burrasche, alle tempeste. E quindi tutto ciò è racchiuso da questi due versi così significativi. Non solo come nella poesia il tuono, che vi lascio qui, il mondo esterno è percepito come una minaccia. In realtà in Pascoli questo emerge spessissimo. Il mondo esterno viene vissuto spesso come una minaccia a cui contrapporre invece il meraviglioso nido entro cui si può trovare la cura e la protezione. Quindi torna ancora al nido rappresentato dal casolare e dall'ala di gabbiano. Ricapitolando quindi in questa poesia voi trovate l'onomatopea bubolio, la similitudine come affocato, quindi rosseggia come affocato, quindi come di fuoco, due ipallagi, nero di pece, stracci di nubi e una analogia fortissima tra il nero c'è un casolare o un'ala di gabbiano. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio alle prossime lezioni sulle poesie di Pascoli. A presto! Grazie!